Ecco perché stiamo iniziando questa domenica con una liturgia, una parola che è molto particolare, però giustamente Matteo sta facendo una sintesi. Il Vangelo è molto bello, no? E lo abbiamo sentito in diverse occasioni, sicuramente. Però per poterlo capire c'è di illuminarlo un po', eh? Finito ad aprire grande le orecchie, perché c'è dietro di tutto questo una cosa spettacolare, ma proprio bellissima. Cesare di Filippo è un posto al nord del territorio di Israele, alla frontiera proprio con il Libano. Anzi, su questo, nelle vicinanze, lì proprio, si trova il monte Hermon, molto conosciuto, perché quando si scioglie, nasce il Giordano. Cioè, loro si trovano propriamente nel posto dove, lì, Cesare di Filippo, ci sono oggi ancora le piscine, che si alimentano dalle acque appena nate del Giordano e faranno, che ne so, più o meno 300 chilometri fino ad arrivare alla Galilea e dopo altri 200, scendendo fino a sparire nel mare morto. Vi siete accorti? Gesù, con i discepoli, che stavano a Cesare, a Cafarno, nel territorio della Galilea. A noi ci sembra molto semplice, diciamo, andare di qua a Messina, da Canicati a Messina, quasi 300 chilometri. A piedi, fratelli, è in salita. Sono queste cose che a volte Gesù, come che tiene, cioè, se le potrebbe fare e dire, lì dove sono comodi, ma perché spostarli tanto? Perché sarà? Perché c'è una pedagogia nascosta. Cesareo di Filippo è una cittadina romana, fatta da Filippo, cugino del Cesare, lo zio, così che lui, per onorare al Cesare, le ha messo Cesarea. Però non le poteva non mettersi a se stesso, così Cesarea di Filippo. questi stanno tutti contenti, lo zio rimane contento. Però qua, perché lo ha fatto qua? Come a Roma, no? Tutti gli imperatori facevano i bagni, tutto dove c'era l'acqua, e se no se la facevano portare. Cesareo di Filippo nasce con l'acqua, e là ci sono le piscine. Ma non solo questo. Chi è la moglie di Filippo? Erodiade. Anzi, Salomè, la figlia di Erodiade. Chi è Erodiade? Vi ricordate? Giovanni Battista porta, le dà la figlia, a Salomè, che porta in un vasoio la testa di Giovanni il Battista. Guardate, no? Questa bella coppia si sono fatti il palazzo lì, al nord, alla frontiera con l'Iva. Ma non è solo questo il punto. È che una zona così pagana, terribile, se Betlemme è la città del pane, significa questo, a Cesareo di Filippo c'è il tempio pagano del pane. E oggi si trova nel ruine. lì Gesù è andato a chiedere la professione di fede in un posto pagano. Non solo il posto pagano dove adorano il Dio che si fa presente, diciamo, della providenza, però è un Dio, idolatri. Nel momento della festa del Dio del pane, Gesù porta i ragazzi lì e là fai la domanda. Adesso possiamo capire, no? Che dice la gente che sia io? La gente è piena di pagani. Che cosa potevano dire? Avevano un po' di paura perché anche parlare male dell'idolo o degli dèi potevano ricevere le bastonate. Là. Che cosa sta dicendo, fratelli? È questa la nostra società. Che cosa dice la tua famiglia di Dio? Che cosa? Com'è il nome di Gesù Cristo nella tua propria famiglia? Chi è questo Gesù Cristo in quelli che sono attorno a te? In una società senza Cristo. Dov'è? Chi è? Gesù? Anzi, nel catechismo. in un sistema catechetico che molte volte i frutti sono minimi, no? Non solo perché i propri genitori non trasmettono la fede, ma che il sistema non produce. No? Che cosa chiamativa che, finito il catechismo, arrivederci, i bambini con i loro genitori. Non tutti. ma che? Adorano allo stesso Dio di noi? Sarà così? Sarà così? Ecco perché, fratelli, questa domanda che il Signore sta facendo lì in un mondo pagano è lo stesso che io ti dico a te. Secondo te, che cosa dice la gente? Ah, però oggi sono tanti cristiani o finti cristiani? a volte seguendo la confusione di alcuni sacerdoti o alcuni che vanno scrivendo e pubblicando è perché, che ne so, perché si è modificato il Padre Nostro, perché si fa la comunione nella mano, perché si suona la chitarra, perché non si usa l'organo in chiesa, aiutatemi, perché Papa Francesco non è il vero Papa, avete sentito sicuramente tutte queste cose che molte volte nascono dall'interno della chiesa. E perché? Semplici. che credono di adorare Dio ma in verità adorano il falso Dio. e la seconda domanda e voi chi dite che sia io? Gesù se la sta chiedendo alle apostole dopo che loro hanno visto i paralitici camminare, i sordi, un bel coro, i muti cantando, hanno visto i ciechi dalla nascita o quelli che hanno perso la vista, hanno visto morti risorgere, riprendere la vita, hanno visto le cose impressionanti. Però Pietro risponde di una forma che non sapeva veramente che cosa stava dicendo. Tu sei il Cristo, sì, però ma alla fine noi sappiamo che cosa ha fatto Pietro, l'ha negato tre volte, è scappato per accodar, però poi si è convertito. E viene la domandina che è importante chiedersi. perché quella domanda è successa quasi tre mila anni fa ed oggi viene a te e a me. Chi è Gesù per te? Io chiederei ai ministri della comunione, chiederei a catechisti, al popolo battezzato, chi è Gesù per te? Però senza rispondere come il catechismo, no? È la seconda persona, la Santissima Trinità, il figlio di Maria. No, 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 lasciando tutto questo. Chi è Dio per te? Chi è il Messia per te? la parola di questa domenica e che ci accompagnerà tutta la settimana è cercare poter rispondere con i fatti concreti. che significa fatti concreti? Quando io ero morto c'è uno che mi ha dato la vita. Quando tutti mi giudicano c'è uno che non ti giudica. C'è uno che fa tutto per te e non ti chiede niente a cambio. E non è il tuo marito, non è la tua moglie né i tuoi figli. Perché tutti ti chiedono qualcosa a cambio. Tutti. o non ti sei accorto che il tuo amore è sempre spiccioli. È una moneta di scambio. E chi è voto di Gesù Cristo si prostituisce perché? Per avere accettazione, affetti, vanità, vanità e vanità. Dice il Coelit. Ecco perché la domanda è molto forte, fratelli. Chi è Gesù per te? È quello tu l'hai sperimentato nella tua vita? Tu puoi rispondere in un momento X concreto della tua storia che hai trovato a Gesù Cristo o continua o continua a essere il fantasma dei sogni o quello delle riviste del catechismo? Perché il cristiano è uno che segue non un fantasma, sino una persona reale che si presenta nella vita, che ti prende per mano, che ti aiuta a camminare, ti insegna a camminare e ti conduce alla casa del Padre. Ma non alla casa del Padre per fare soldi, sennò che ci conduce a salire sulla croce per entrare nella vita eterna. Ecco perché questo Figlio, questo Gesù Cristo, ci insegna a non avere paura alla morte, a non avere paura che l'altro ti disprezzi, a non avere paura a che tu dai e l'altro ti prende in giro. Perché noi siamo stati chiamati alla santità, fratelli, non alla mediocrità, non ad essere mediocri. Questo è Gesù Cristo, ma tu puoi dare una risposta, chi è Gesù Cristo per te? Sei capace di scriverlo e mandarlo in un messaggio a tutti i tuoi amici? voi ragazzi siete capaci o siete codardi o non l'avete trovato a Gesù Cristo? Nonni, voi che vi vantate e vi battete il petto di tanti anni di andare in chiesa, ma vi siete convertiti? Davvero vi siete convertiti? Avete smesso di sparlare, di dire bugie? Avete smesso di propagare il peccato? è importante fratelli, chi è Gesù Cristo per te? Però qua io potrei essere uno che annuncia una cosa che non vive, perché sono sicuro che più di uno qua la brutta bestiazza ti sta dicendo eh però guarda questo prete ci dice a noi e lui beh io ti rispondo per me Gesù Cristo è uno che si è incapriciato di salvarmi molte volte molte volte lo rifiuto anche come sacerdote pigrizia per pregare non voler l'obbedienza guardare da un'altra parte quante volte io sono stato infedele con il mio peccato ma Gesù Cristo si è incapriciato di salvarmi che vuoi? e continuo a chiamarmi l'evangelizzazione mi dice sono un inutile sono una bestia io non ti giudico questo che sperimento ogni volta che io mi confesso trovo le parole nascoste di Gesù Cristo che mi sta dicendo io non ti giudico con le tue debolezze potrai fare tante cose io ce le ho la risposta e tu ce le hai o sei un finto cristiano vai a messa la domenica punto ho compiuto fratelli la vita cristiana è per i coraggiosi non per i codardi dobbiamo smettere di portare un cristianesmo della comodità smettere di seguire un finto un fantasma di Gesù Cristo c'è bisogno perché non c'è il tempo non lo sai dove vi siete accorti c'è una generazione che sta venendo e troverà una società putrita disordenata che tu le insegni al tuo figlio a non dire parolacce a scuola scusa a casa e risulta che lui sa più parolacce di te perché l'hai imparato a scuola e forse dal maestro e forse anche dal prete o dalla sua e che cosa facciamo che cosa fa un papà che cosa fa una nonna un nonno corregge e nonna tu non mi vuoi bene perché tu mi correggi nipotino mio perché ti amo ti correggo chi ti odia non ti corregge perciò questa è una parola forte e lo abbiamo sentito no? dopo che Pietro risponde che cosa le dice? tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia vuolete sapere una cosa nascosta in tutto questo? non l'ha detto a un cesareo di Filippo lo ha fatto tornare a Galilea vicino a Cana oggi c'è la chiesa e c'è una pietra grandissima dove lì il Signore ha detto tu sei Pietro ma avete capito? non l'ha fatto il Vangelo lo mette una cosa collegata con l'altra come se fosse successo nello stesso momento e no la professione di fede praticamente l'hanno fatto al nord alla frontiera con il Libano poi sono scesi vicino a Cana le ha detto tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la chiesa e poi istituirà il sacramento della riconciliazione un bellissimo sacramento della confessione dei peccati che purtroppo alcuni preferendo vivere nella porcheria del peccato lo rifiuta come tanti pagani ed è bellissimo questo vi siete accorti il capricino di Gesù farli fare centinaia di chilometri per la professione e poi scendere un'altra volta sul mare Galilea per dirle questo e qua il brano del Vangelo ci lo mette così semplice perché sa che questa comunità ha capito geograficamente che cosa sia successo fratelli perché la liturgia li metti insieme perché se tu non ti avvicini i sacramenti non potrai mai scoprire il vero volto del il salvatore del messia del Cristo rimarrai con l'immaginetta di Gesù figlio figlio di Maria ma non il Gesù il messia perché quello si sperimenta attraverso i sacramenti che bella che è la parola no? ma che ci sta spingendo a questo a combattere non da soli se no con questa potenza spirituale che il Signore ci sta regalando così sia